Noi siamo molto molto forti, siamo la grande squadra che siamo avanti e dobbiamo fare così. Quando c'è stato un incidente, mi ero, insomma così, un colpo diciamo della macchinina. Sì, sì vedi, qualcosa così ti fa ridere la cosa. Non hai visto? Questi qua, non lo so. Ti riprendiamo.